riccardo amato ciao riccardo ciao ben trovato ai microfoni di radio radio allora r16 serramenti questa è la tua attività che saresti tu sì perfetto sono solo io in carne d'ossa fantastico allora la caratteristica che tu metti proprio fai proprio la messa la pose in opera giusto sì di serramenti di come come si svolge la tua attività però è tutto ciò che riguarda il mondo dei serramenti quindi zanzariere grade porte blindate e quant'altro io faccio la fornitura il montaggio non posso non faccio la realizzazione in quanto non ho l'officina certo compro conto terzi da comunque artigiani qualificati non dal primo che capita e quindi io compro vengo a casa tua monto e riscuoto niente di più fantastico quindi senza nessuna mediazione ecco io ho detto questo può essere utile per le le vostre abitazioni ma ovviamente ascoltando quello che mi hai detto puoi lavorare anche per un'attività perché il serramento certo no a parte quello poi comunque la cosa spazia anche nel mondo delle manutenzioni posso faccio manutenzione per qualche edificio e quanti condomini e insomma perché il mondo per dei serramenti è un po' ampio per tutto appunto sì perché comunque ci sono vari componenti di portoni dei condomini e quelli vanno riparati i cancelli e cose che hanno bisogno anche di manutenzione oggi immagino si sia anche la tecnologia no? fino a certo punto dice? fino a certo punto perché poi comunque forse sono pure io e sono poco pratico di tecnologia no non lo so quindi no più che altro cose classiche elettroserrature, pompe chiudiporta, le cose che richiedono manutenzione nel campo dei serramenti infatti richiedono poi manutenzione anche abbastanza spesso in certi casi no? in condomini per fortuna le rompono parecchie di cose e vedi e beh certo chiaramente soprattutto in un condomino come dire bello vissuto questo è normale che avvenga benissimo allora Riccardo tu hai iniziato questa attività praticamente da fresca fresca insomma sì è qualche mese che ho aperto la ditta mia però ci sono tanti anni che faccio questo lavoro questo mondo e infatti i nostri ascoltatori se avessero bisogno appunto del tuo servizio per quanto riguarda appunto posa in opera di serramenti possono fare riferimento a te in che zona lavori? un po' tutta Roma per lavoro mi sposto anche fuori Roma se serve se tutto se ne vale la pena è certo perché no insomma giustamente fai vedere le mani? no no ragazzi questo è uno che lavora eh si capisce ma che sei venuto qui dopo aver fatto sei stato a lavorare? certo che me magno stasera bravo ecco ma che ne pensi di un lavoro come questo per i giovani? per i giovani sarebbe buono ma purtroppo ce ne sono molti pochi di artigiani per noi al giorno d'oggi sono tutti quelli che collaborano con me sono persone di una certa età ormai i figli fanno tutt'altro fanno tutt'altro però ecco magari si parla spesso di crisi anche riacquistare un po' quelli che sono i mestieri anche manuali che si tramandano che comunque sono sempre utili perché un po' è come il panettiere no? avremo sempre bisogno del panettiere si però è un campo che ti deve piacere non ti puoi improvvisare da oggi al domani non ti puoi svegliare una mattina a 30 anni no 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 io parlo giovani molto almeno la metà degli anni dovrebbero cominciare verso almeno i 18 con un pizzico di passione perché poi comunque il lavoro non è difficilissimo bisogna solo riuscire a stare un po' dietro capire ogni tanto risolvere piccoli problemi che non sono fondamentalmente sono sempre gli stessi una volta che hai capito come funziona il meccanismo ed entri nel giro perché dici anche se poi trovi che ne so un serramento che è diverso dall'altro però i meccanismi sono quelli lì ma poi starti adattarlo la prima volta ovviamente impazzirà un po' di più la prima volta ovviamente sarà un po' più difficile poi ti rimani in memoria la volta dopo lo sai fare fantastico benissimo e allora per contattarti si può semplicemente cercare R16 immagino serramenti sul web vi affarirà un sito che è www.r16serramenti.it oppure la pagina facebook R16 Serramenti Riccardo Amato che per adesso fa tutto lui sì per fortuna sì magari poi sai andando avanti ti trovi un ragazzetto che ti dà una mano tra vent'anni no è più facile che assumo una segretaria mi sembra un'ottima idea grazie Riccardo niente